Si chiude a Dudin nella stagione dell'Aerogasmet contro la formazione di primissimo livello ben intenzionato a conquistare la piazza d'onore nella classifica del torneo. Il raggiungimento con l'argo anticipo dell'obiettivo salvezza e la perdita di due piedini importantissime come Cardellini e del Sorbo hanno portato alla striscia aperta di 6 sconfitte consecutive che ha caratterizzato la parte finale della regular season con le rotazioni ridotte all'osso che hanno impedito al team di Baldiraghi di capitalizzare le buone prestazioni contro il Rani e Milano, Fortitudo Bologna e Trame 100. Se la partita di domenica non cambierà di una virgola la positiva stagione dell'Aerogasmet altrettanto non si può dire per i friulani padroni di casa che in caso di sconfitta scivolerebbero il terzo posto in classifica superati da Montichiari se batterà l'Ecco o Bologna ferma per il turno di riposo. Gli uomini di Corpaccio hanno iniziato la stagione con 6 vittorie consecutive che rendono immediatamente le proprio intenzioni già peraltro abbastanza chiare a mercato appena concluso. Il roster sontuoso portato dalla dirigenza friulana avrebbe molto probabilmente garantito la prima posizione in un torneo meno stellare di quello 2014-2015. Di gran lunga il più competitivo da molti anni a questa parte. All'andata il pubblico del palacremonese si stette ad un incontro bellissimo deciso da un canesto impossibile di poltroneri a 6 secondi dal termine. Con l'erogasme che uscì dal parchetto e le applausi del proprio tifo e di rimpianti per un finale di match che poteva e doveva essere gestito meglio. I bianconeri rudinesi sono ben preparati in ogni reparto. A partire dal play-mec Scuola Fortitudo-Piazza, gran difensore metronomo della squadra, con gli esterni di Viccaro e Zampolli che garantiscono l'atleticità e punti dall'arco. Dopo un inizio in sordina, dovuto ad un grave infortunio, è tornato ai propri eccezionali livelli poltroneri, tiratore letale che fa spesso la differenza. Difficile arginare anche il centro Zacchetti, diverse stagioni in A tra Snaidro-Udine e Cantù. Un incontro apparentemente proibitivo con i biancorossi cremaschi chiamati all'impresa. Ed ora rivediamo l'incredibile finale della gara di andata. Grazie a tutti.